2022. Nella capitale è la rivoluzione. A Montecitorio quasi tutti i membri della Camera sono fuggiti per paura di essere linciati dalla folle inferocita. Da tre lunghi giorni barricati in un Parlamento sotto assedio, due deputati, Antonio Lucarelli e Salvo Biagiotti, politici di due partiti della coalizione di governo, sono rimasti nei loro scranni ad esercitare le loro funzioni. I due sono fermamente intenzionati a non venire meno all'impegno preso con i cittadini italiani, gli stessi cittadini che, in quel preciso istante, sono alle porte del palazzo per rimandarmi a casa. Grazie a tutti.